Si sta avvicinando la visita di revisione, ma qual è l'errore più grande da evitare? Scopriamolo insieme! Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o sopprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale in modo tale da rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Quando presenti la domanda di invalidità, può accadere che la commissione dell'Inps ti riconosca invalido al 100% o con diritto all'indennità di accompagnamento con obbligo di revisione oppure senza obbligo di revisione. Nel caso in cui non vi sia obbligo di revisione, allora non dovrai far nulla, perché in questo caso riceverai l'assegno o l'indennità di accompagnamento periodicamente. Nel caso in cui invece sia previsto un obbligo di revisione, allora dovrai recarti alla visita di revisione. Ma devi sapere che dal 2014 sono state introdotte delle importanti novità. Infatti, dal 2014 dovrai attendere la raccomandata con la quale vieni invitata a presentarti dinanzi alla commissione medica. Non dovrai far niente, ovvero non dovrai essere tu a chiedere la visita di revisione. Ma non solo, fin quando la commissione medica non sia pronunciata sulla revisione, avrai diritto ad ottenere ancora per i successivi mesi sia l'indennità di accompagnamento che l'assegno ordinario. Ma dalla visita di revisione non bisogna aver paura. Infatti, considera la visita di revisione anche come un'opportunità. Ad esempio, nel caso in cui ti sia stata riconosciuta un'invalidità civile del 100%, immagina che durante la visita di revisione potrai presentare ulteriore documentazione medica per richiedere un aggravamento e quindi vederti riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento. Ma qual è l'errore più grave che viene fatto? L'errore più grave è non presentarsi alla commissione medica con una documentazione che rispetta il metodo delle 3A. Se vuoi saperne di più sul metodo che ho creato, ti consiglio di lasciare un messaggio in descrizione e ti risponderò. Ricorda inoltre che, in caso di esito negativo della visita di revisione, hai 6 mesi di tempo per presentare ricorso nel caso in cui ti sia stata abbassata la percentuale di invalidità. Se vuoi chiamarmi, fallo e sarò lieto di ascoltarti. Se preferisci inviarmi un'email o scrivermi un messaggio, fallo e ti risponderò nel più breve tempo possibile. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.